Un anno è finito, un anno è già cominciato, non si possono tracciare bilanci definitivi per quanto riguarda una previsione del 2018, però possiamo raccontare quello che è successo nel 2017. Credo che vada agli archivi una stagione, un anno molto positivo per l'Università degli Studi di Salerno. Sì, è stato un anno sicuramente di crescita, di sviluppo del progetto della nostra Università. Siamo cresciuti nelle classifiche nazionali, l'anno scorso di questi tempi, il sole 24 ore ci ha indicato al quindicesimo posto in Italia. Siamo entrati prepotentemente nelle classifiche internazionali e badate bene, questo non è soltanto un dato che serve per le statistiche, ma crea reputazione, crea quindi possibilità per poter attrarre migliori studenti e migliori docenti sia nel campo nazionale sia nel campo internazionale. Siamo cresciuti sui risultati della ricerca, anche la distribuzione delle risorse che sono giunte al nostro Ateneo, che oggi in parte sono distribuite su base storica, dove noi siamo notoriamente penalizzati. Invece sono distribuite una parte crescente in misura meritocratica sulla base dei criteri collegati alla produttività della ricerca. E qui abbiamo avuto risultati veramente importanti, perché avendo ottime performance sulla qualità della ricerca, questa ha portato anche maggiori risorse per Salerno. Abbiamo avuto ottimi riscontri dal punto di vista didattica, stanno aumentando il numero di immatricolati, stanno aumentando il numero degli studenti regolari e questo è un altro elemento importante, perché ovviamente in Italia c'è un'emergenza reale che è quella collegata agli studenti fuori corso, anche per motivi di carattere motivazionale rispetto ad un percorso così articolato. Stanno aumentando il numero di laureati regolari, perché ovviamente noi rispetto alle difficoltà che esistono in questo contesto, perché non possiamo nascondere le difficoltà del contesto economico e sociale in cui siamo immersi, però noi rispondiamo offrendo formazione e ricerca di qualità. E credo che questo serva anche alla crescita del territorio, perché ovviamente avere un'università che comunque cresce a livello reputazionale significa anche per le altre istituzioni, per le imprese, per gli attori, avere dei punti di riferimento che oggi non si propongono più a livello individuale, ma si propongono come Università di Salerno. E credo che questo sia un altro elemento che vada sottolineato. L'idea di creare una filiera intelligente e lungimirante, rafforzare un trade union tra il mondo dell'impresa e l'Università degli Studi, credo che sia una mission alla quale tendere. Altro discorso di fondamentale importanza, la dotazione infrastrutturale dell'Università degli Studi di Salerno, perché cresce il numero di pari passo, deve crescere anche l'offerta infrastrutturale. Sì, noi abbiamo fatto la scelta nel tempo, ovviamente, quindi una scelta recente, quella di puntare sull'Università Campus. Ne abbiamo oggi questi due campus, Gioiello, questo di Fisciano, 1.200.000 m2, e quello di Baronissi, più piccolo, ma forse ancora più bello, di 150.000 m2. Il campus per noi è il tutto, perché ovviamente offrire aule, laboratori, spazi verdi, spazi comuni dove la comunità si ritrova, quindi tutti, personale docente, tecnico amministrativo, dotazione sportiva, è assolutamente un modello, diciamo, che noi stiamo interpretando per poter avere quel senso forte della comunità, perché se oggi l'Università è vincente, è vincente perché ha rafforzato molto al proprio interno questo concetto, diciamo, di comunità, e quindi avere questi spazi comuni, la formula campus sicuramente, diciamo, ci aiuta. Abbiamo investito molto, stiamo investendo molto, quando sono rettore, 20-30 milioni l'anno, mediamente in questi anni, sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, perché ovviamente tenere un campus devi manutenerlo in ogni aspetto, e questo, voglio dire, per chi viene da fuori è veramente un'emozione, anche per noi, per la verità che lo viviamo tutti i giorni, vedere, diciamo, in al sud un campus, un'università, diciamo, di questo tipo, ed è decisivo nel nostro progetto di università, dice bene, l'aspetto infrastrutturale è decisivo, perché vivere, lavorare in un posto e studiare in un posto che sia bello, moderno, funzionale, è efficiente, anche pulito, perché ovviamente l'aspetto ambientale è decisivo. Noi abbiamo puntato sulle energie rinnovabili e noi quest'anno realizzeremo questo investimento di 10 milioni di euro, saremo autosufficienti completamente dal punto di vista energetico, e insomma dà l'idea anche di una pulizia che parte, diciamo, dall'aspetto ambientale, ma che vuole anche coinvolgere gli aspetti più gestionali e amministrativi. La prossima sfida, una sfida vincente, importante, che poi mette un po' a sistema tutti i vari aspetti, è quella legata ai trasporti, no? Migliorare la dotazione e soprattutto migliorare i collegamenti, credo che sia una sfida importante nel futuro, anche immediato. Sì, noi abbiamo fatto un investimento grosso sul terminal bus di Fisciano, che è assolutamente all'avanguardia, tra l'altro abbiamo anche supportato informaticamente con un sistema che ti consente in qualsiasi momento da dove ti trovi di poter capire quando e come arrivare al nostro campus. Però ovviamente oggi, diciamo, la nostra università è intimamente collegata, come lei dice, al discorso dei trasporti e come sappiamo è una competenza, diciamo, di carattere provinciale e regionale. Stiamo mettendo in campo ogni iniziativa, abbiamo fatto, diciamo, tavoli con i comuni interessati, abbiamo messo, diciamo, le nostre competenze a ragionare e a riflettere, per capire anche se come, diciamo, suggerire, diciamo, alla regione, alla provincia, delle soluzioni di carattere tecnico, perché ci rendiamo conto delle difficoltà, però allo stesso tempo per noi, a differenza delle altre università che sono collocate in città, dove comunque si arriva, noi invece, alla nostra collocazione campus, di cui siamo molto orgogliosi, ovviamente richiede, diciamo, dei trasporti ad hoc. Noi chiediamo politicamente un sostegno rispetto a questo tipo, perché non è una competenza nostra, diciamo, quella ovviamente di gestione del traffico veicolare. Chiediamo un sostegno forte perché credo che lo meritiamo. Ecco, io dico sempre, diciamo, non citate di più di quanto noi, diciamo, meritiamo. Il merito è la nostra grande sfida, è la nostra grande bandiera. E credo che da questo punto di vista bisogna sollecitare, diciamo, la politica a fare in modo che investa, diciamo, sulle linee di trasporto che portano, diciamo, al campus. E devo dire poi che c'è sempre quel progetto, il progetto, diciamo, che è un progetto, oramai, come dire, consolidato rispetto alla linea ferroviare. Si parla molto di questo discorso, noi aspettiamo che adesso la politica realizzi e che segua giorno per giorno questo, perché ovviamente per noi l'elettrificazione della Salerno Avellino e l'elettrificazione della linea Mercato San Severino significherebbe quindi l'entrata nel campus con un progetto, diciamo, di linea ferrata, per noi sarebbe decisivo, perché ovviamente collegandoci ad alta velocità significherebbe poter attrarre, diciamo, rendere ancora più centrale il nostro campus rispetto al contesto nazionale. Dal generale al particolare è possibile immaginare che sia proprio Aurelio Tomasetti a portare avanti queste istanze. Si ragiona molto, si parla molto, si discute, circolano tante voci, una di queste, insomma, riguarda proprio l'attuale elettore dell'Università degli Studi di Salerno, possibilmente, probabilmente in campo per le prossime politiche e quindi attore, protagonista di queste istanze. Ma questo, francamente, è Aurelio Tomasetti, fa il rettore, e lo vive come un grande dono, una grande fortuna, e da quattro anni e più, diciamo, lavoro quotidianamente, diciamo, da prima, per avere il sostegno leale dell'Ateneo. Credo che la politica debba sposare questo progetto, perché, ripeto, la nostra comunità, i nostri mille docenti, i nostri persone tecniche, i nostri borsisti, assegnisti, i nostri studenti e le loro famiglie meritano, diciamo, attenzione. Quindi, se lei mi chiede se questa, diciamo, dell'Università di Salerno sia una istanza giusta e la politica di destra, di sinistra, di centro, debba portare avanti, io le rispondo di sì. Poi, chi lo farà, diciamo, secondo me, gli interpreti ci possono essere, perché è un progetto che è politicamente molto rilevante, anche, diciamo, dall'idea per chi viene da fuori di un sud diverso, diciamo, di un sud che non cerca alibi, che non cerca anche commiserazione, che non cerca anche sostegni, come dire, a pioggia, ma cerca semplicemente che venga riconosciuto quello che è il merito e gli sforzi che sono stati prodotti. E quindi, io credo che questo politicamente sia un messaggio molto importante per il Paese.